... 56 riceve ammunizione sono partite per Andorofampana con Boretti in testa avanti a Raga poi Codibue in terza ruota ed eccole ai punti di meno 6 2, 3, 9 e 9 quindi Raga e Moretti sono le prime a marcare tutti sul tabellino ancora Moretti in testa ora è Bertola che si è portata a tirare il gruppo che entra sul rettilineo e si va a sprintare 2, 7, 7, 9 era Galeano Fattinatori, Olivieri Fattinatori, Siracusa e Moretti, New Roller, Corsia ora è Codibue che rilancia l'azione l'atleta di casa se lo spetti di Passano Raga ma viene rintuzzata nell'azione da altri atleti che si presentano al passaggio 2, 3, 9 2, 1, 8 Raga Ponzetto i punti di questo passaggio ancora Raga e Ponzetto nelle prime due posizioni ora all'esterno eccoli eccoli nuovamente sul traguando passaggio punti 2, 3, 9 3, 5, 6 quindi Raga e Pintatore e continua e continua Quartunti Raga nel mio personalissimo Tappellino in questo momento è in vantaggio 9, 3, 6 e in cede prima munizione ed eccole ora al passaggio di meno 2 ai punti di meno 2 2, 3, 9 Raga 3, 5, 6 Pintatore continua a far punti Raga al passaggio suono della campana ultimo giro e c'è 1 a 8 il gruppo su Ponzola 3, 1, 2 1, 4, 5 e la lancia con lo sprint per l'ultimo giro 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 3, 2 è saluta Raga per quanto adesso ci va all'arrivo 2, 7, 7 1, 4, 5 6, 9, 2 con sto il passaggio con sto il passaggio